è indisciplinata lui aveva proprio inventato un modo di fare secondo me il documentario perché la sua voce che ha accompagnato tutti noi a volte io dicevo mi faccio delle nanne quando ti sento parlare con questa voce, con questo tono su a dente ma in realtà era un modo molto particolare che adesso è copiato ma lui è stato il primo ad averlo inventato lui aveva l'intelligenza vivida di capire all'istante come andava a finire un'intonazione che non è facile perché in un documentario possono esserci duemila virgole insomma il pensiero può essere lungo invece lui era un talento puro in questo, andava